Oggi più che mai percepiamo in tutti gli ambienti i continui attacchi contro la fede cattolica e contro la legge naturale. Sottili sofismi presentati sotto forme di verità, argomenti superficiali, teorie infondate ritenute vere, pregiudizi demolitori e mezze verità invadono tutti i campi della cultura contemporanea e si imbattono sin dai primi anni di istruzione nelle scuole. Per questo motivo San Giovanni Paolo II diceva che la situazione attuale, pesantemente segnata dall'indifferenza religiosa, da problemi e interrogativi inediti, esige con forza un livello eccellente di formazione intellettuale. A grandi mali, grandi rimedi. Se vuoi preservare la fede, lo sforzo per la formazione dell'intelletto è urgente oggi più che mai. Conferenze di apologetica su temi come la dimostrazione dell'esistenza di Dio, l'immortalità dell'anima, la storicità dei Vangeli e l'infallibilità della Chiesa. Conferenze di bioetica sulla realtà dell'aborto, sul matrimonio e sulla vita in castità. Conferenze su temi storici e culturali, testimonianze di conversione e momenti di preghiera. Il tutto in un ambiente familiare di gioia e sano divertimento che favorisce l'impegno formativo di queste giornate.